...di cottura, però molto comoda perché si può evitare di salarla. Brava, vera? Vattene a posto, grazie, metti dentro. Holandese, lunga, fusolata bianca, molto saporita, brava! Scientificamente si chiama tu, però. Ricordatevelo, ragazzi, perché... Avrei portato questo. Bravo, Martò! Qui, ma non si riva! Aiuto! Aiuto, miseria! E' un professor strano! Palvatore, vieni qua, c'è un topo! Palvatore, un topo! Eccolo là, lo vedi? Eccolo là, lo vedi? Ma che fai, premi! Non cazzo, osservare! Arrivare! Ascolti la faccia, e così nessuno ti riconosce. Noi a quel punto scacchiamo le fotografie che poi mandiamo in giro per tutta la scuola. Alziate con gli esplosivi! Comunque, come si dice bene, no? Non c'è... Cos'è? Ci sta bene! Ci sta no male! No, il delegato di Santa Borthe! Echoe! 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 Bene! Echoe! 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 ecco lì il signore desidera